Di nuovo in nostra compagnia, seconda parte della rassegna stampa pomeridiana, andiamo ad occuparci allora delle notizie principali di oggi per quanto riguarda gli aggiornamenti dal web. Avevamo da un lato Renzi e il Senato, dall'altro la disoccupazione. Ebbene ci sono delle piccole novità. Vediamo di cosa si tratta. Partiamo dal sito ANSA, la sua prima pagina si apre con Renzi a Londra che vede Cameron. Per il Premier segnali di ripresa non sufficienti, bisogna correre. Ieri il via libera della riforma sul Senato insorge Forza Italia. Disoccupazione, questo il dato, al top dal 77. 13% è un dato sconvolgente, dice Matteo Renzi. Addio poi allo storico Legoff, raccontò la vita del Medioevo. Aveva 90 anni, si è spento a Parigi. Tra le sue opere gli intellettuali del Medioevo, il Basso Medioevo e i mercanti e banchieri del Medioevo. Una figura storica importante. Dalla Regione Campania si parla di rimborsi ai consiglieri, notificati 55 avvisi. Tra gli innagati figurano anche il sottosegretario PD Umberto del Basso De Caro e i senatori Domenico Desiano, coordinatore regionale di Forza Italia e Deva Lungo, sempre di Forza Italia. Mosca intanto alza il prezzo del gas per Kiev. Dalla Nato nessun ritiro delle truppe russe. L'Eurogruppo all'Italia lancia un appello, faccia le riforme e rispetti le regole. Stesse notizie più o meno troviamo anche sul messaggero, anche se l'apertura differisce rispetto al sito dell'Ansa. Si parla di Babysquillo, i clienti patteggiano, gli occasionali se la caveranno con 5 mesi o una multa di 40 mila euro. Troviamo poi lo spazio dedicato all'Istat, ma prima andiamo ad approfondire proprio quest'ultima notizia di cronaca. 5 mesi e 10 giorni di carcere o una pena pecuniaia di 40 mila euro. Si chiuderà così per i clienti non abituali delle Babysquillo, l'inchiesta romana che coinvolge i salotti buoni e lambisce la politica. È la pena minima per chi non sia stato un abitué dell'appartamento di Viale Parioli. Alcune richieste di patteggiamento sono già arrivate sulle scrivanie del procuratore aggiunto Maria Monteleone e del PM Cristiana Macchiusi, che daranno parere favorevole al GIP. Ma intanto le indagini vanno avanti con nuove iscrizioni. Le prime richieste di rito alternativo sono all'esame dei PM e molti avvocati continuano a presentarsi in procura per capire come sarebbe calcolata la pena in caso di patteggiamento. Sono 52 i clienti delle due ragazzine di 14 e 15 anni, ma nella maggior parte dei casi non hanno precedenti penali. Così partendo dalla pena di un anno si prevede una prima riduzione a 8 mesi per la concessione delle attenuanti generiche in assenza di precedenti e di continuazione del reato e poi lo sconto previsto dalla scelta del patteggiamento. La pena scenderebbe a 5 mesi e 10 giorni. Per evitare l'affidamento ai servizi sociali, i clienti delle Bevisquillo potrebbero anche scegliere la conversione in pena pecuniaria, ossia 40 mila euro, calcolando 250 euro per ogni giorno di carcere e la vicenda sarebbe chiusa. Un modo per evitare a molti uomini di confessare alle famiglie il coinvolgimento nelle indagini. In alternativa c'è la cosiddetta libertà controllata che prevede però una serie di prescrizioni dal divietto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, studio, famiglia o salute, all'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate e compatibilmente con gli impegni di lavoro o studio presso gli uffici di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri territorialmente competente. E ancora il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, salvo autorizzazione, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento. Poi l'obbligo di conservare e presentare a ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato l'ordinanza che determina le modalità di esecuzione della libertà controllata e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena del magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità. Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza però può sempre disporre l'affidamento ai servizi sociali. I clienti, capitolo conclusivo per ora, non ci sarebbero i nomi di Mauro Floriani, marito della senatrice Alessandra Mussolini, e quello di Nicola Bruno, figlio del senatore Donato, tra i clienti che hanno chiesto di patteggiare la pena o almeno non ci sono ancora. Per il primo, tra l'altro, la procura avrebbe già optato per il rito immediato. Sono invece professionisti romani ad avere chiesto il rito alternativo e a valutare l'ipotesi di chiudere in fretta la vicenda giudiziaria. Andiamo anche su Rai News 24, dove si apre con l'incontro di Renzi in Inghilterra, da Londra. Disoccupazione record, mai così. È un dato sconvolgente, ha commentato subito il nostro Premier. L'Istat ha diffuso i dati di febbraio, mai così male, dal 77. Tuttavia, Ren ha fiducia nell'Italia, dall'Unione Europea al vicepresidente della Commissione, ha ribadito l'apertura di credito per il nostro Paese. Tuttavia, proprio dall'Europa, persiste questo spettro della deflazione. Andiamo velocemente anche su Repubblica, dove la foto di Renzi e Cameron apre la pagina del sito di informazione. Sostengo Matteo e le sue riforme ambiziose, queste le parole di Cameron. E va in pressing sulle riforme, dobbiamo correre il nostro Premier, così ha parlato. Brunetta però lo ha attaccato, dicendo che Renzi fa demagogia. Andiamo a vedere poi il dato della disoccupazione al 13%, un dato sconvolgente. E i 90 anni di Eugenio Scalfari a Roma festa in teatro per il suo compleanno, sono le notizie principali del noto sito di informazione. Sul Corriere della Sera, l'apertura dedicata alla stretta di mano tra David Cameron e Matteo Renzi a Londra, con la disoccupazione che sale e ce ne occuperemo tra pochissimo. Le auto blu invece, offerte boom, caccia al trofeo e anche su Tgcom24 l'apertura è dedicata proprio al lavoro. In secondo piano i controlli contro le false partite IVA e i Coco Pro. Allora diamo un'occhiata prima al dato della disoccupazione, con questa notizia che troviamo proprio su Tgcom, disoccupazione a febbraio che tocca quota 13%, è il tasso più alto sia dall'inizio delle serie mensili, gennaio 2004, sia delle trimestrali e primo trimestre del 77%. Pensate a rilevarlo è l'Istat, a febbraio il numero di disoccupati supera la soglia dei 3,3 milioni, il tasso dei giovani tra i 15 e i 24 anni senza lavoro è pari al 42,3%, in diminuzione dello 0,1 su gennaio quando aveva toccato il picco, ma in aumento del 3,6% su base annua. Per Renzi tutto ciò è assolutamente sconvolgente, dall'Eurostat febbraio segna un aumento da brivido per i senza lavoro del nostro paese, esattamente un anno fa eravamo fermi all'11,8%, quest'oggi siamo invece al 13%. È un dato, questo dell'Italia, inferiore soltanto a quelli di Cipro e della Grecia, occupati al 55,2%. L'Istituto di Statistica rileva che a febbraio gli occupati sono pari a questo ammontare, il livello più basso dal primo trimestre del 2000. In Italia ha un'occupazione poco più di una persona su due tra i 15 e i 64 anni. Senza lavoro invece, secondo i dati Istat, 3.307.000 persone, cioè 8.000 in più rispetto a gennaio e 272.000 su base annuale. In un anno hanno perso il lavoro ben 365.000 persone, e quindi sono davvero tante. In media si contano dunque 1.000 occupati in meno al giorno. Per scendere sotto l'attuale quota occupati bisogna tornare al primo trimestre 2003, più di dieci anni fa, sempre a febbraio. Secondo l'Istat risulta stabile il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, cioè quelli che non hanno un lavoro e neppure lo cercano. Il loro numero è fermo a 14.363.000, fermo a livello congiunturale il tasso di inattività pari al 36,4%, mentre su base annuale l'aumento risulta dello 0,1%. E quindi sono numeri pesanti, potenti. Soltanto la Spagna fa peggio di noi per quanto riguarda la disoccupazione giovanile degli under 25. Questo sicuramente non ci consola, così come non consola neanche Renzi questo dato. Lo vediamo su Rai News 24. Il dato sulla disoccupazione è sconvolgente, così ha commentato Renzi al suo arrivo a Londra. Numeri in effetti drammatici, quelli che si trova a commentare il Premier. Dal 77 a oggi quindi si è via via peggiorata questa situazione. Peraltro sempre sul tema del lavoro c'è una task force pronta. Il Ministero ha rafforzato i controlli sull'utilizzo distorto dei contratti di collaborazione a progetto e delle partite IVA. L'obiettivo è identificare i casi in cui il ricorso a queste tipologie contrattuali mascherano rapporti di lavoro subordinato. Si tratta di una prassi ingiustificata, dice il Ministro Poletti, con i nuovi contratti a termine. La decisione del Ministero e delle politiche sociali si inserisce nell'ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare e quindi si cercherà di regolarizzare una situazione che oggi per lo più è utilizzata male e a discapito di giovani ma anche di uomini che hanno perso il lavoro dopo i 30 anni. Con questo sistema diventano schiavi di un mondo del lavoro sempre più avido e incapace di offrire progettualità sia ai ragazzi che ai capi di famiglia. Quindi vediamo anche poi questo appoggio che comunque arriva dall'Europa, la fiducia nell'Italia da parte di REN. Nonostante questi numeri, certo Giulia che sono numeri forti quelli che abbiamo commentato, i giovani quasi per metà nella fascia dei 15 ai 24 anni non hanno un lavoro e molti di questi che non hanno lavoro neanche lo cercano più e questo forse è il dato più significativo poiché trovarlo risulta praticamente impossibile per la maggior parte di loro e hanno perso la fiducia in un sistema italiano che non offre alcuna risposta. Sì, è sicuramente emblematico di uno scoraggiamento generale e di una rassegnazione in questo settore. Leggevamo anche in apertura della permanenza dei giovani in famiglia, nella famiglia di origine in età anche avanzata, addirittura 30 o 40 anni. Purtroppo avendo questi numeri alla mano diventa anche un po' difficile immaginare come si possa andare a vivere da soli, intraprendere una propria strada e una vita totalmente autonoma se non si può neanche avere un lavoro e se addirittura si rinuncia a cercarlo data la situazione. Non soltanto, spesso commentiamo queste misure che il governo sta cercando di adottare come l'ultima di Poletti per regolarizzare quantomeno le situazioni contrattuali precarie ma si tratta di misure per chi il lavoro già ce l'ha mentre per chi il lavoro realmente non ce l'ha, non lo trova, non riesce a trovarlo scarseggiano gli strumenti per ovviare a questo problema ed è forse su questa tematica che si dovrà dare una risposta. Le parole di Renzi sono state chiare secche e si spera che ora dopo quest'ennesimo dato negativo che continua a peggiorare di mese in mese e di trimestre in trimestre si possa arrivare ad un momento di risalita. Si spera sostanzialmente che alle parole seguano i fatti. Noi ci fermiamo ancora un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco con notizie dalla Capitale e dai comuni della provincia. a tra poco. Grazie. 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 Grazie.